Se parliamo della casa sicuramente oggi più che in passato la casa è il luogo dove si cominciano ad utilizzare molte delle tecnologie delle quali parliamo. Dico questo perché in passato questo succedeva soprattutto in ambito lavorativo. Alcuni hanno cominciato a utilizzare il computer al lavoro e poi lo hanno portato a casa. Oggi molte delle cose che si usano anche nelle aziende o che i consumatori vorrebbero si usassero nelle aziende si cominciano ad utilizzare in casa o nel tempo libero. Pensiamo agli smartphone, pensiamo anche ai moderni computer, pensiamo ai tablet, pensiamo anche a delle tv che non sono più semplici schermi ma sono oramai diventate cose che si connettono alla rete. Ecco le case sono anche il luogo dove ci si interconnette alla rete, alla rete internet per l'esterno ma sempre di più non lo dimentichiamo ci sono molte famiglie che hanno una propria rete interna. Può sembrare strano per molti vedere una famiglia che ha il computer dei bambini, il computer del papà, della mamma o addirittura del nonno che sono tutti connessi in una piccola rete che magari accedono ad un se non proprio un server comunque ad un hard disk che contiene un sacco di cose. Questo è un argomento e un trend molto interessante perché le nostre case stanno di fatto diventando sempre più complesse e quello della complessità è un altro tema sul quale secondo me è necessario puntare l'attenzione perché è vero che stiamo parlando di una familiarità sempre maggiore di chi usa la tecnologia soprattutto quelli più giovani che quindi favorisce insomma questo approccio però è anche vero io noto leggendo anche quello che mi scrivono gli ascoltatori che le cose stanno in realtà diventando sempre più complesse e il tema della semplicità cioè cercare di semplificare sempre di più l'usabilità di questi strumenti è un tema molto molto importante e molto interessante. Uno dei grandi trend che vedremo nei prossimi anni è quello delle cosiddette smart grids cioè delle reti intelligenti che siano esse reti di dati o addirittura la rete elettrica o la rete del gas fatta di tanti piccoli punti intelligenti che dialogano tra di loro e gestiscono queste reti. Parlando della casa uno dei trend che vediamo che abbiamo visto negli ultimi anni è che dalla casa si sta generando una quantità sempre maggiore di traffico internet fino a qualche anno fa erano i luoghi di lavoro le aziende che generavano il traffico della rete oggi sono prevalentemente i consumatori e quindi stiamo vedendo uno spostamento della rete quindi anche naturalmente dell'attenzione che chi fa business in rete ha dei consumatori e delle case pensiamo ad esempio che la stragrande maggioranza del traffico internet generato oggi è fatta da video che non sono certo videoconferenze tra manager di aziende che stanno da parti opposte del mondo ma sono video in streaming o ahimè illegali che comunque sono richiesti dalle famiglie quindi dai consumatori. Guardando alle nostre case non dovremmo dimenticarci le aziende non dovrebbero dimenticarsi ma anche chi progetta pensa i prodotti designer non dovrebbero dimenticarsi degli elettrodomestici penso che finora la battaglia non sia stata vinta c'è stata qualche evoluzione la lavastoviglie la lavatrice ma stiamo parlando di prodotti un po vecchiotti che non hanno visto grosse evoluzioni negli ultimi anni negli ultimi anni non c'è in effetti stata una forte discontinuità se pensiamo alle faccende di casa molte ce le dobbiamo ancora sbrigare a mano certo con strumenti che ci possono essere utili ma non esiste il robot o la macchina alla quale noi affidiamo un lavoro dall'inizio alla fine l'intervento dell'uomo è purtroppo per fortuna non so dipende dai punti di vista ancora molto necessario e questo è guardando sempre il bicchiere mezzo pieno sicuramente una grande occasione per creare nuovi prodotti che funzionino visto che lavoro in una radio che buona parte della mia vita l'ho passata in una radio se non proprio davanti al microfono comunque vicino a preparare magari trasmissioni per poi andare davanti al microfono mi piace parlare della della radio se guardiamo questo strumento a volte un po dimenticato nelle nostre case oggi ci sono delle radio che assomigliano alle vecchie radio che tenevamo nel bagno in cucina che si connettono ad internet e quindi ci permettono ad esempio di ascoltare un sacco di radio in giro per il mondo che si connettono alla nostra rete domestica e quindi ci permettono magari di ascoltare una canzone che abbiamo su un nostro hard disk o ci permettono di collegarci ad un podcast che magari abbiamo scaricato parliamo delle case sicuramente uno degli oggetti che tra l'altro sono anche oggetti di design che vediamo nelle nostre case sono le tv sono diventate sempre più importanti sia per dimensioni perché sono sempre più più grandi sia perché sono strumenti che oramai e parlo delle tv di ultima generazione sono anche anche esse interconnesse alla rete internet qua stiamo assistendo a un fenomeno che penso stia disorientando o disorienterà sia i consumatori ma anche il mercato è quello che faccio riferimento che fa riferimento ai contenuti che poi vengono visti sulla sulla tv perché stiamo assistendo ad un mondo che vede il produttore della tv proporre al consumatore finale una interfaccia all'interno della quale il consumatore può direttamente visionare i contenuti questo che cosa vuol dire che possiamo immaginarci che il produttore della tv quindi dell'hardware possa sostituirsi o comunque affiancarsi cominciare a fare concorrenza ai broadcaster alle piattaforme dei broadcaster tradizionali il mercato si sta complicando molto e sicuramente per il consumatore c'è una prima fase sicuramente così di disorientamento ma anche una serie di opportunità nuove che vedremo nei prossimi anni molto molto interessante c'è una prima fase di intervento c'è una prima fase di intervento